E ciao! Buongiorno ragazzi! Buongiorno a tutti! Scusate, c'è anche una Lollina che... Non ci arrivo! Eccomi, bentornati! Lollina, guarda, abbiamo deciso che in questi giorni, visto che dobbiamo combattere un po' la noia di questi giorni di quarantena, ah, finalmente mi ha detto del mio sport! Cioè? Comprare LOL! Sì, Lollina, sì, ogni tanto ci sta, ci mancava un pochettino, adesso che c'è questa serie nuova bellissima. Ah, meno male che mi date retta ogni tanto, chissà chi ci troviamo dentro. Vai, apriamo su, sbrigati! Ok, adesso ci riapriamo. Hai delle idee, Lollina? Io, vero, nessamente no, questa serie mi piace molto. Guarda, noi abbiamo già aperto qualcosa, nello scorso video abbiamo aperto Optical e avevamo trovato poi anche questa qui, Yacht, Yacht, Yacht BB. Quindi, ci mancano tutte quante le altre, abbiamo delle preferite, devo dire. E non ero io la preferita! Sì, tu sì, sei la preferita numero uno di tutte le serie del mondo forever and ever. Però in senso preferite di questa serie. Di questa serie! Ah, vabbè, te lo concedo. È tipo, volevamo trovare Harley Quinn per il discorso di vedere il paragone con quella nostra. Che poi è anche un po' Harley Quinn. Tanto lei, adoro lei, 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 tutte belline. Ok, andiamo? Sì, userei un tuo modo di dire. Meno parole più apri-apri! Brava, volevo dirvi questo. Mentre queste due debosciate aprono le palline, mettimi a fuoco, ok, perfetto. Mentre loro aprono le palline, voi iscrivetevi al canale perché è il mio canale YouTube. Lolina. Fatti zitta. E quindi... Ancora. Vabbè, iscrivetevi perché questo canale è bellissimo, avremo un sacco di loro, c'è un sacco di cose, anche se mi snobbano ultimamente. Non è vero, tesoro. Sì, stai facendo tu, ti metti a fare le cose tu e così funziona. Ah, apri dai! Allora, tu sei riuscita? Vediamo un po' la tua. Allora, aspetta un attimo perché volevo pesarle, perché queste... Ecco, ho la bilancia, mi l'ho portata alla bilancia perché dico almeno le pesiamo. Aspetta pure questo. Sì, 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 ora vi dico quanto pesa. Questa bilancia secondo me è sballata. Perché 140 grammi, cioè, è una cosa immensa. Non mi risulta che ci siano bambolini di questo peso, quindi io dentro ce ne trovi due, oppure chissà. Mentre la mia... Ci sto a peso anche lei. La mia, invece, dovrebbe essere un po' più leggerina. Che color è la tua? Desparente. La mia è... È un giallino, diciamo. 124, cioè, ci sono 20 grammi di differenza tra la mia e la tua. Cioè, guardate, è giallino qua. È giallo, sì. L'abbiamo sempre trovato arancione. Arancione. No, no, c'è anche giallo. Giallo, diciamo, verdino fluo. Allora, c'è giallo, c'è arancione, c'è rosa e c'è trasparente. Chissà quello è trasparente. Tu vai, perché io prima che taglio qui ci vorrà, penso, la vita. Tu, vai, continua, continua. Faccio così? L'indizio, chi c'ha? Ah, vero, eccolo. Allora, l'ha trovato... L'hai messo incastrata nella buccetta. L'ha trovato sole e freccina verso l'alto. Ah, forse ho già capito. Chi potrebbero essere? Non te lo dico. Dai, dimmi, chi pensi. Allora, l'ha sostiene. Allora, questo... No, 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 non dire. Lei vorrebbe tanto questa. Però l'indizio mi pare che corrisponda. A lei, a lei... Oppure a lei? No. Non credo. Lei, lei... E non lo so. Andiamo avanti. Mentre io... Ti aspetto. Ok. Faccio così. La mia è gialla, ma mi sembra più gialla della tua, ho sbaglio? No, sono uguali. No, sono uguali, gialli tutti e due. Sai la tua che, il fatto che è molto pesante, potrebbe anche essere un'altra? Oh, guarda che ho trovato. Guarda che ho trovato. Occhietto. Quattro. Quattro e mascherine. Wow. Chissà la tua e chi sarà. Eh, che ne so. Facciamo così. Procediamo con la tua per prima? O vogliamo fare in parallelo? No, così. Vai, vai tu. Allora. Cos'è? Ho già capito. No, è quella che mi piace a me. Ho capito anch'io. Guardate che bel biberon, è uno dei biberon più carini della storia. È bellissimo. È tutto fiorellini, sembrano i fiorellini di Babù. Vero. Cioè, questo è il nostro. Cioè, non c'è soltanto le B e i tre puntini. No, è il biberon più carino dell'università. Il biberon di Babù. No, ma che carino stampato. Troppo bello. Aspetta, stiamo attenti che qua ci sono i polsini. Allora, i polsini. Quindi questo dovrebbe essere quella che preferisco di questa serie. Sono felicissima. Ragazzi, assicuratevi sempre che non ci sia dell'altro. Esatto, abbiamo trovato già delle bustine che contenevano due cose. Il ciuccio e gli orecchini. Attenzione, se no ho buttato i pezzi. Tra l'altro, prima c'erano i commenti. Quindi se io mi perdevo qualche pezzo, le commenti? L'ho di un attimo, credo che fossero di nuovo i polsini. Ma in realtà sono le scarpe. Ok, che carine. Quanto sono... Sembrano... Trasparenti. Gelose. Che belle. Ah no, una plastichina diversa. È gommosa ed è un colore veramente super neon. Sono degli zoccoli. È una scarpa nuovissima, non c'è mai stata. Sono proprio degli zoccoli con la tara altissima. Allora, adesso apriamo la bustina con una cosa che non c'è in nessuna LOL. Piantala. Questa è la torcina. C'è in tutte. Ok, la attiviamo. Se ne avete tante di queste bamboline, poi potete pure non attivarle tutte quante in modo da... Noi utilizziamo questa qua ovvi grande perché... Esatto. Se poi volete salvare la batteria, basta inserire questa linguetta qui sotto. Avanti. Poi qua c'è il vestitino. Vai, 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 vai. Che a questo punto se è quella che ambisco io è un costumino. Oddio, che carino. Anche questo con i fiorellini. Con i fiorellini di babù. Ok, vai, 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 vai. Poi ce le scambiamo. Sì, sì. Chissà se... Penso se io ho trovato la preferita tu e tu la preferita mia. Magari. Ok. C'è proprio... Eh, infatti, questo scambio di coppia ha incrociato. La fai? L'unboxing del secolo. Oh, mamma mia. Sì, è lei. Allora, questo è un accessorio nuovissimo. Non c'è mai stato. Cioè, io questa qua la userei di pallolina per fare la doccia. Sì, 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 sì. E magari c'hai i codini. Ah, vero. Quindi ciao me la tengo io. Ah, no, questo è i codini, quindi che capelli... Anche perché io quella... No, lei va. Come sta? Benissimo. Lovina, sei stupenda. Oppure potete tagliare un palloncino come abbiamo fatto nel nostro tutorial. Vai, bambola. Ricordi panchino. Bambolina. Benvenuta e ciao. Io non so come ha i capelli sotto. Io l'ho vista solo con la cuffia. Quindi sotto com'è. Oh, è bionda. Non l'avevo vista mai. Perché? No, vabbè. Cioè, sembra Anna di Frozen. Però bionda. Anna di Frozen tinta. No, è fantastica. È stupenda. Ok, Lollina. È bellissima. Allora, non avevo mai visto i suoi capelli. Perché, giustamente, nella checklist si vede così. Si intravede che è un po' biondina. Cioè, io sapete come credevo? Come... Bleh. Come credevo che fossero. Eh? Più o meno così, però tutti i piatti ondulati così. Anch'io. Invece ce l'ha proprio acconciati. Che carina. Ma che belli gli occhi. Sembra che abbia proprio veramente tante stelline negli occhietti. È stupenda. Doppio mento assente. Fatta bene. Fortunelle. C'è uscita bene. Meno male. C'ha un neo piccolissimo sul visino. E ha queste sopracciglia un pochettino inclinate. Che sembra un pochettino timidina. È bellissima. E lei si chiama NSYNC. Adesso. Perché voi, se non l'avete mai notato, cioè, tutte le Loll hanno le sopracciglia così. Una sopra e una sotto. È vero. Invece l'ha... Tutte. E molto spesso nelle prime serie le avevano un pochettino in tipo cattivelle. Invece adesso, ma questa ce l'ha un po' all'ingiù. Vai. Vestimela. Ok. Vediamola come stai con la cuffiettina. Nel frattempo te apri la tua. Esatto. Quindi tu la vesti. Che cosa fa? La mia colore? Allora. No. Piange e si illumina. Quindi facciamo il test della lampada. Da così, da nudina. E vediamo che cosa esce fuori. E poi... Uuuuh. Perché ora ti ho visto tutta verde. No, la cuffietta prende un colore atomico. Cioè, la cuffietta... Lei sembra... Lei si illumina tutta. Eh, guarda la pelle. E poi dice... Un alieno. È un aliena. No. No, ma ragazzi... No, ma fare un fiore. Cioè, guardate. È spettacolare. Sì, è vero. Sembra un funghetto. Perché il corpo sembra di un vero... No, ma non... Nel video si vede, ma non si vede. Non vi riesco a dire quanto brilla. Cioè, è pazzesca. È bellissima. Cioè, illumina. Guarda, mi fa... C'è un fascio di luce. No, è stupenda. Ok, vediamo anche il costumino come veniva. Ok. E le scarpine pure come sono. Scusate, la lampada fa... Oh, il biberon. Mamma mia. Spaziale. Ok. Accendi la vestila che apro la mia. Stai fatta male? Stai fatta malissimo? Quanto? Guarda, però. Che miseria. Dove? Dove l'hai sbattuto? Dove? Mi concentro. Io ho trovato... Tu hai trovato la mia preferita. Tu quale vorresti? La tua preferita qual è? La mia preferita è questa. Ah, perché ha le fiammette sui vestiti. Fire? Sì, anche perché è molto bella. E... Ok, e lei? Ok, vai. Mi impegno. Andiamo che ti trovo. Ti vi faccio tutte. Vediamo che ti tiro fuori da questa. Allora... Bustine, bustine, bustine. Cartina, 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 cartina. All'ol. Surprise. Io ho toccato la lol e ho già capito chi è. E non ve lo dico. Da cosa parto? No? Dalla lucina. C'è un'attrice di collana. Allora, te hai detto che sentivi una collanina. Eh, esatto. Eccola, guarda. Una collana. Ma... Ah, io credo che fosse una collana da collo. Non so se è da collo, da testa, non so niente. Non guardare la cartina. Lei è la sua cosa. Non guardare... Allora, collanina o bo. O bo. O bo. Poi... Dov'è il biberon? Questa è la lucetta. E vabbè. La lucina. Questo è il biberon. Tutto nero. Che bello. Larina. Yes. Fiamme. Godo, come un riccio. Fiamme, mi sa che ti ho beccato la tua preferita. Questa è l'unboxing del secolo. Veramente, l'abbiamo chiamate. Cioè, te che... Io che apri la tua preferita e te che apri la mia. Ok. Tra l'altro, quella che è appunto la mia preferita, questa con la cuffietta. Avete visto quanto è pesante. Quindi è la pallina più pesante della serie. Del mondo. Occhiali. Che belli. Che strani. Ok. È finito? Mi manca solo la pambola, eh? No, il vestito. Scusate. Che chissà come sarà. Eccolo, non vedevo... Stavo già in ansia. Dico, ecco, manca la bustina col vestito. Non ci vuoi. Te lo immagini? Già ne abbiamo viste di tutti i colori in tutti i nostri... Ok, ce l'ho fatta. Con delicatezza. In tutti i nostri... Guarda. Che belli. Wow. Fichissimi. Ok, bambolina. Dove sei? Ragazzi, vi ho finito un punto. Ciao. No. Scherzo. Comunque avevo sentito il caschettino quando l'ho tirata fuori, quindi ero già sicura. Che carina. No, l'ho visto. Che carina. Adoro questo tipo di capelli. Mi piace un sacco. Anche... Anche lei. Perfetta. Zero, zero, doppio mento. Perfetta. È bellissima. Troppo carina. Ok, dalle una slucettata. Anzi, spegni le luci. Wow. Allora... Uh, il corpo le diventa... Allora, la testa non ha cambiamenti. Pazzetta, provo a mettere così. Guarda, la testa... Guarda, il sotto della testa cambia. La faccina, no? Le cambiano, appunto, le sopracciglia. Ma prende... Pare che veramente prende fuoco. E il biberon, guardate che luce che fa. Il corpo è completamente fucsio, ragazzi. Fucsissimo. E i vestiti pure. Ok, li accendi, vestiamo tutto e vediamo le illuminate vestite. Uno. Ecco le... Vediamo. Uno. E due. Vado, eh. Lei è tutta verde. Ma gli occhiali diventano bianchi, guarda. Vero? Cioè, gli occhiali diventano completamente bianchi. Verde e rosa. Esatto. Gli riesce a togliere gli occhiali? Senza... Vabbè, fai tu un po' l'intimo. Lei fa strano, tutta verdina. Wow, che carine. Guardate quanto si vede lei che è verde rispetto a un'altra. E guardate che differenza rispetto a Lollina. Anche Lollina però, dai suoi frutti. Sì, perché anche i capelli di Lollina, devo dire che con questa lampada... È anche un po' la pelliccetta. Sì, è vero. Però appunto, ha anche i capelli un pochettino neon. Un alieno. Ma lei è proprio un alienina. Cioè, ragazzi, è pazzesca. Ecco, non devo inquadrarla. Ecco, se l'allumino non direttamente, riuscite a vedere in modo particolare. Ha particolareggiato il suo spettrale... L'uomo... Luce, luce, luce. Oddio. Oddio. Bene, ragazzi, grazie per aver visto questo unboxing. Sono carinissime. Questa serie mi piace tantissimo. Chissà chi si sta facendo per la prima volta alle Loll Surprise e non conosce tutte quante le serie precedenti. O se appunto i collezionisti continuano ad ambire le serie nuove. Ma questa serie veramente è carina. Io ogni volta che esce una serie nuova dico No, questa serie sarà brutta. Io non le comprerò perché sicuramente sarà... E invece, non so come riescano a farlo, ma in ogni serie riescono sempre ad aggiungere qualcosina in più. Veramente carinissime, deliziose, tutte e due. E, ragazzi, non finisce qui. Perché di queste palline ne abbiamo proprio tante. Ce ne hanno scaricate dieci. E quindi faremo altri video in cui li apriamo insieme io e Lara. Quindi continuate a stare con noi. Chissà se riusciamo a trovare altre che ci interessano oppure no. E niente, un bacio a tutti quanti. Ci vediamo prestissimo. Un bacio. Ciao, ragazzi. Ciao.